Ho fatto anch'io il volontario, questa è stata l'esperienza che mi ha consentito di seguire un asilo notturno quando ero molto piccolo e erano i primi sbarchi di immigrati, quindi mi ritrovai a conoscere persone che venivano da lontano e a cooperare con una serie di realtà della mia città, Monza, insomma quella me la ricordo come una grande iniziazione a una vita pubblica e sociale, quindi una bella occasione. Grazie